Dopo una curva in mezzo alla carreggiata in galleria, due asini sono improvvisamente apparsi davanti agli occhi di un camionista che ha avuto riflessi prontissimi, con due rapide e precise sterzate, prima a sinistra poi a destra, è riuscito ad evitare un impatto che avrebbe avuto conseguenze tragiche per i due animali, ma probabilmente anche per lui. Il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della galleria è apparso sui social nelle ultime ore. Si tratterebbe di uno dei tunnel della statale 36 situati dopo l'abitato di Mandello. 3.07 del 17 gennaio 2022, l'ora e il giorno impressi sul filmato, catturato con un cellulare poi condiviso e diventato presto virale. Il mezzo pesante, un'autocisterna, sta procedendo in direzione colico, quando all'improvviso trova sulla sua strada, dopo una curva, la coppia di asini, un adulto e un cucciolo, che chissà come e perché hanno deciso di avventurarsi all'interno della galleria. Lo scontro sembra inevitabile, ma il camionista con invidiabile sangue freddo riesce a rivitarlo. Con una decisa sterzata sinistra, schiva per un soffio i due animali. Poi con una controsterzata a destra, si rimette in carreggiata ed evita a sua volta di finire contro una delle pareti del tunnel. Il conducente, superato lo shock, ha avvertito della presenza dei due quadrupedi sulla carreggiata. Quello che in gergo automobilistico viene chiamato test dell'alce, utile a provare la capacità di una vettura di evitare un improvviso ostacolo in corsa, da oggi sarà chiamato test dell'asino.